Dopo aver sfondato l'algoritmo di YouTube con scherzi al McDrive al limite della follia umana Abbiamo deciso di ripartire con nuovi prank ancora più scioccanti per far impazzire tutti i McDonald's d'Italia e i suoi dipendenti Ma chi saranno i quattro valorosi rompiscatole di oggi? Abbiamo Pierino, la mente del gruppo Peter, il piccolo fratello di Samuel Isaac, il più folle, il più scapenato E infine Niablo, una macchina da prank E regala a 50.000 like portiamo a fare scherzi al McDrive tutti i fratelli di Samuel, tutti e otto Gli otto fratelli Ordiniamo tutto il menu e sforniamo tutta la famiglia 50.000 like Ma quali gesta compieremo quest'oggi? Recentemente è stato creato un box domande sul nostro profilo Instagram e abbiamo selezionato i migliori scherzi suggeriti da voi E mi raccomando seguici anche tu per essere il prossimo selezionato a finire nel video Ma ora basta, è il momento di scendere in campo In tutti i sensi Partita di calcio al McDrive Facciamolo Ma i nostri giocatori sono pronti? Sono pronti? Siete pronti? Siete pronti? E allora 3, 2, 1 Ok Eccoci è Quindi per la partita Vloccheremo il McDrive E faremo una partita clandestina di calcio Abbiamo l'arbitro Abbiamo il Milan Abbiamo l'Inter Derby di Milano Andiamo 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 Salve Buonasera Per il McDrive Quale cosa può servirlo? Giocatori cosa volete? Io un patatino e chicken burger Va bene Patatine e chicken burger Grazie Per l'Inter Un po' di frutta Della mela? Sì Abbiamo la mela Allora mela ok Una porzione di mela Grazie mille E da bere signor arbitro? Per me un McFlurry Energy McFlurry Un McFlurry McFlurry Riso con pollo ce l'avete? No No Ma grazie di me che siete Va bene Ci siamo allora Posto così Arbitro questi meritano una munizione Che non ha riso col tuo Doppia munizione Ciao Sì Grazie mille Tanto aspettiamo il cibo Ok scendete i giocatori Adesso Esce il manchio? Sì sì scendete i giocatori Registra tutto quello che succede Vai inizia Filma Voila Attenzione amici amici Sta iniziando la prima partita Nella storia del McDrive Abbiamo già L'1 a 0 per l'Inter Fischia l'arbitro E allora si può riprendere Allora può partire Allora attenzione Contrattacco del Milan Suona la carica Salva valore autogol E allora 2 a 0 Per l'Inter Si può ripartire Forza ragazzi Tra poco arriverà il cibo E ci sarà l'intervallo Ma adesso si riprende Occhio allora il Milan Che fa 2 a 1 Si può ripartire Mi stanno informando Che il cibo sta per arrivare Tra poco ci sarà L'interruzione del primo tempo Allora attenzione Può ripartire l'Inter Attenzione Allora riparte l'Inter Mamma mia Prima partita Nella storia del McDrive Gabri la butta dentro 4 a 2 Dilaga l'Inter Sempre più Ma il Milan Non deve arrendersi Intanto abbiamo gli spettatori Da bordo campo Che applaudono E guardano con gioia La partita E attenzione Perché arriva la pausa Cibo Arbitro Fine primo tempo Fine primo tempo Ha munito il commesso del McDrive Perché sta infastidendo la partita Allora attenzione Gioco interrotto Che succede? Gioco interrotto Porta sequestrata Attenzione Cartellino rosso Va bene Allora partita annullata Ragazzi Partita sospesa Verrà rimandata Adatta da destinarsi Vi ringraziamo per la visione Grazie a tutti Ci vediamo Alla prossima partita Va bene ragazzi Come al solito Siamo stati cacciati Denunciati Non lo sappiamo Nel dubbio Scappiamo Se il Vida L'entra dentro Per favore Ok Espulso il McDonald Ragazzi Espulso tutto Nel Che cosa sta facendo? Chi è il traceno? Ok cari amici Partita finita Qui allo stadio McDonald Con il risultato Di 4 a 2 Per l'Inter Vediamo se anche Il dubbio è vero Finirà in questo modo Ora giocatori Potete mangiare Ma noi adesso Passiamo al prossimo scherzo Passiamo al prossimo McDrive Una mela al giorno Toglie il rigore di torno Il prossimo scherzo Ce lo suggerisce Victor Che ci dice Ordinate al Mc Parlando in corsivo Mamma mia Ma chi sa Parlare in corsivo Migliore? Beh Amio Naturalmente E io Ordiniamo un hamburger Adesso non lo so Adesso io vado Per il hamburger Perché ci sono fatti No facciamo un po' Vida Vorrei un cheeseburger Con patatine Oddio Sei bravissimo Allora Facciamo un Vida Non hai studiato An elementari Seguo lezioni Su TikTok Ok 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 Peter sei assunto E allora Ok Mc Stiamo arrivando Ci siamo Ragazzi ci siamo Adesso andiamo davanti allo speaker Peter Ordinava mangiare tutto quello che vuoi Però in corsivo Ciao Mi vorrei Una cheeseburger Con patatine Piccole E anche una fanta piccola Pronti Pronti oh C'è qualcuno Ah mia ma va tutto bene Se avete intenzione di fare il serio Prendiamo l'ordine Assolutamente non vado avanti Ditemi voi Ah mia ma noi stiamo ordinando Scusi Siamo comunque clienti Che stiamo ordinando seriamente Che paghiamo? Fornei un McChicken Con patatine piccole E una fanta piccola Anzi Dell'acqua 8 euro la carta grazie Ma come 8 euro? È un po' troppo Ma fa niente Solo perché sei la mia Oh mamma mia Che donna di anio Chissà se hai capito qualcosa Che donna di anio Comunque L'ordine era serio Cioè noi stiamo comunque ordine in anio Comunque i soli li abbiamo Grazie ma c'è tutto Una domanda scusi Non ci vuoi cagare in questo modo Scusa No adesso stiamo qua No no Scusi abbiamo una domanda Ma c'è tutto dentro Grazie Ci fermiamo E controlliamo Che effettivamente ci sia tutto Se no torniamo indietro Lamentarci in corsivo McChicken C'è Patatine Ci sono E per cosa ti abbiamo preso Tutto abbiamo preso I tabaglioni I tabaglioni Basta che se no sembra un video con un'altra piattaforma Andiamo alla prossima richiesta Grazie Il prossimo scherzo Un po' di roba Per iniziare Se possibile Una bottiglietta d'acqua Ok ok And then I would like A sandwich With maybe A burger And With some A little bit of lettuce And Just a sandwich With You know The meat Maybe The chicken meat I'm black I'm black And I like chicken You know I'm black And I like chicken Just a moment please Hello Are you there? Yes ok I'm here You can send me your order please Yeah Un tremendo bocadillo De pollo Y Si tienes El helado De fresa Please I want to ask If we were to To speak in English If you want Or maybe Just We use Italian Language No Yo no hablo in ingles Solo espanol Porque soy de Argentino Ok I will try it Si provo Prego Un bocadillo Tremendo De pollo Do cabillo No Sir please Can I ask you a few words Tell me in English Si chiera Stengo un amigo Pes, spes, spes Proviamo colganese Proviamo colganese Go Me pe panno And me cook What? Excuse me Me pe panno And me cook Patate Mi pe Ai, ai Mi pe Mi pe Mi pe Mi pe E Stamos Listo E Ok Do you want To add No No Grazia It was very nice to meet you Thank you See you later Bravi ragazzi Bravi Bravi Staccato Io non so cosa abbia capito Cosa ci abbia messo dentro Ma andiamolo a vedere Bellissimo Si è andata a mole stavolta Avete beccato la ragazza Come parla inglese Bellissimo Ciao Ci avete fregato Volevamo mettermi in difficoltà Complimenti però Complimenti Mamma mia ragazzi Hanno spaccato Posso dirlo I dipendenti del Mac Hanno spaccato Al Mac Hanno persone preparate Che parlano anche inglese Quindi un applauso Per il Mac Ok ragazzi Il ritorno Al Mac Drive Finisce qui Ma occhio Perché ci potrebbero essere Altri episodi A 50 miei like Portiamo Tutti gli 8 fratelli Di Samo e di Isaac Al Mac Drive Spamiamo tutta la famiglia E facciamo scherzi Ancora più paurosi Quindi dipenderà Tutto da voi Mettete like Se non l'avete ancora messo Commentate Lo scherzo di questo video Che vi è piaciuto di più Ma soprattutto ragazzi Il riso con il pollo 100.000 like E chiediamo riso con il pollo 100.000 like E chiediamo riso con il pollo Al Mac Il riso con il Mac pollo Bene ragazzi Quindi mangiate McDonald's Mangiate riso con pollo Mangiate pizza con l'ananas Quello che volete Noi ci vediamo Al prossimo video Un milione su Youtube Già lo sai Se con noi Metti il pollice su Siamo i Pirlas V Siamo i Pirlas V Un milione su Youtube Siamo i Pirlas V Siamo i Pirlas V